Quando 65 anni fa quelle persone decisero di iniziare quell'avventura probabilmente un briciolo di utopia nel loro pensiero immaginiamo che ci fosse poi in realtà abbiamo visto che come spesso accade le utopie poi si realizzano diventano soluzioni. Quindi è un po' messaggio di osare, di interpretare di sapere intanto che c'è uno strumento come quello della cooperazione che mette insieme le forze e in questo momento penso che ognuno di noi abbia bisogno di sentirsi vicino a qualcun altro. Il modello cooperativo che credo che sia ancora oggi uno dei modelli di impresa più attuali proprio anche per costruire un'economia sana, poi ovviamente senza l'ambizione di coprire tutti gli spazi ci mancherebbe altro. Però in un territorio come questo la tradizione cooperativa è forte, credo che la cooperazione possa aver dimostrato di essere con una componente importante di un'economia più giusta, più democratica anche più solidale che è una parola importante. Presidente, in questi 65 anni questo è il momento storico peggiore secondo lei? Beh io penso che fosse il più duro allora. Oggi è difficilissimo perché sicuramente apparentemente sta accadendo di tutto, però ricordiamoci come era dura la vita delle persone 60-70 anni fa e oggi insomma quantomeno abbiamo gli strumenti culturali per poter immaginare come venirne fuori. Poi certo sta accadendo veramente cose che un anno fa non avremmo immaginato che potessero accadere, questo ci deve anche fare riflettere che bisogna poi anche cautelarsi in termini democratici, però onestamente penso che il paese, il mondo abbia davanti delle opportunità, non solo dei problemi. Dobbiamo saperli interpretare insomma. Io credo che l'economia sociale in questi ultimi anni sia stata riscoperta come una grande dimensione per affrontare i problemi del quotidiano. Noi abbiamo visto come durante la pandemia cooperare sia stato fondamentale a livello istituzionale e anche industriale, così come nelle soluzioni per le città. Sono nate piattaforme che consegnavano a casa in maniera etica i prodotti ai cittadini. Ecco, queste soluzioni si sono potute trovare grazie a nuovi strumenti anche cooperativi. Quindi credo che davvero il mutualismo sia una risorsa per anche i bisogni dell'oggi e del futuro. Noi abbiamo una storia importante alle spalle, delle solide realtà consolidate, ma un bisogno altrettanto forte di intercettare i cambiamenti della società e di essere utili, di essere utili a aggregare le persone per dare insieme attraverso nuovi legami mutualistici risposte ai bisogni che emergono. I bisogni sono moltissimi. Oggi più che mai il tema della cooperazione è l'esempio del mondo cooperativo, è rilevante non soltanto per il mondo cooperativo in sé, ma anche un bel esempio per il mondo delle imprese, diciamo le società di capitali, le imprese quelle che hanno come obiettivo il profitto. L'idea che l'impresa lavori soltanto per generare valore per l'azionista è un'idea superata. Oggi il tema degli stakeholder, quindi tutti i portatori di interesse dipendenti, i fornitori, la società più in generale, oltre che i clienti che vivono il sistema dell'impresa è molto attuale e credo che possa trovare nell'esperienza del mondo cooperativo anche un esempio interessante a cui ispirarsi. Grazie. Grazie.